Ciao e benvenuti in questo nuovo video ma soprattutto benvenuti in questo nuovo episodio di questa serie di Silviembre. Sono circa 4 o 5 anni che faccio questa serie di video in questo periodo dell'anno perché l'anno inizia a settembre. Lo sappiamo, i buoni propositi, tutti i pensieri, ricominciare, rinascita eccetera è settembre. Si ricomincia la scuola, il lavoro, l'università. Ci dicono anche a gennaio ma gennaio è solo un momento in cui rifletti su tutte le cose che avevi pensato di fare a settembre e che non hai fatte quindi le ricominci a fare, ci riprovi a gennaio. Quindi settembre è il mese dove vogliamo ripartire. È anche il mese dove con questa voglia di ripartenza ci mettiamo addosso tantissime pressioni perché dobbiamo ricominciare ad allenarci, dobbiamo ricominciare a mangiare sano, dobbiamo ricominciare il lavoro, l'università, cambiare casa, cambiare vita. Insomma porta tanta energia, porta anche tanta stress. Ecco perché ho sviluppato in questi anni questa serie di video che si sviluppa durante l'arco di settembre che ho chiamato Silviembre. Ovviamente l'idea è che ognuno di voi che deciderà di seguirmi in questo percorso prenderà il proprio nome, aggiungerà embre alla fine e quindi diventerà il vostro mese. Quindi Giuliembre, Laurembre, Marchembre, qualunque nome più embre, questo è il vostro mese. Un mese per ricominciare e partire con l'energia giusta, con gli strumenti giusti, ma soprattutto con calma perché qui non c'è furia, non c'è voglia di fare tutto subito, non c'è troppo foga di dover fare, ottenere risultati e qui si fa con calma le cose, con molta calma. Quindi vi spiego come sono settata per questo Silviembre. Innanzitutto si vede già che sono molto preparata rispetto agli anni scorsi perché ho un programma, ho fatto brainstorming in questa settimana e quindi sono pronta ragazzi. Ho studiato tutti i prossimi video, quindi siete in buone mani. Come ho deciso di organizzare questo Silviembre? Allora, un anno fa io e la mia socia abbiamo lanciato una piattaforma di benessere. Quindi su Bloomwell trovate tantissimi percorsi di benessere che un pochino l'idea deriva appunto da Silviembre. Il fatto di volersi prendere cura di sé, incominciare a fare i primi passi di un lunghissimo percorso e quindi poi da lì è nato Bloomwell. In questa serie di video invece voglio fare un percorso al contrario, cioè voglio mettere insieme Bloomwell e questa mia serie YouTube di Silviembre e creare per quest'anno questo flusso di video dove affronteremo i diversi aspetti dello stare bene in stile Bloomwell. Significa che dopo un pochino di teoria si passa alla pratica perché in ogni percorso di Bloomwell c'è una parte di teoria dove si spiega e poi ci sono esercizi pratici perché vi vogliamo insieme a tutti i nostri coach dare degli strumenti pratici per essere efficaci, quindi passare dalla fuffa alla pratica. E in questa serie di video voglio fare lo stesso. Quindi affronteremo i temi di Bloomwell come la crescita personale, mindful eating, decluttering, organizzazione del tempo, gestione delle emozioni, digital wellness e lo faremo affrontando il perché, il come, il cosa possiamo fare, tutto in chiave di ripartenza, ok? Tutti questi contenuti sono supportati dai nostri coach, quindi io sono veramente felice di poter unire questi due mondi e farvi vedere anche un pochino di che cosa si tratta Bloomwell. Per me ci sono tre passi fondamentali da dover affrontare prima di tutto. Primo, fermarsi e settarsi, prima appunto di ripartire a bomba. Due, definire obiettivi o desideri per il prossimo anno. Tre, acquisire nuovi strumenti per essere efficaci. In questo video affronteremo il primo. Quindi il primo step, fermarsi e riflettere. Facciamo un esercizio. Vorrei che prendeste carta e penna e iniziaste a chiedervi e a porvi le domande. Che cosa vorrei cambiare? E soprattutto perché voglio cambiare? Cosa dello scorso anno ho affrontato bene? E invece che cosa ha avuto il sopravvento su di me? Incominciamo a riflettere su queste domande e facciamo l'esercizio della scala del valore. Quindi definiamo delle macro aree di nostro interesse. Io vi do qualche input, poi voi potete ampliare ovviamente. Fitness, famiglia, relax tempo libero, lavoro e vita sociale. Quindi identificate queste macro categorie, attribuite a ogni categoria un valore. Cioè quanto è importante questa categoria per me? Quanto è importante la famiglia da 1 a 10? Il relax, il tempo libero, il lavoro? Dategli un valore, un numero, una stellina, un coso, tre stelle, un numero, qualunque cosa. Dategli un valore. Ora, in modo oggettivo, lo so che è difficile, fate la stessa cosa, cioè attribuite un valore, però rispondendo alla domanda, quanto tempo lo scorso anno ho dedicato a ogni macro categoria? Cioè, quanto ho dedicato al lavoro lo scorso anno? 6, 10, 7, non so. Quanto ho dedicato alla famiglia, al tempo libero? Fate in modo oggettivo. Questo esercizio, questa tabella, ci mostra che a volte ci facciamo prendere talmente tanto dalla vita, dalle vicissitudini, quello che dobbiamo fare, che ci dimentichiamo di dedicare del tempo a ciò che ci fa stare bene veramente, a ciò che ci piace veramente. Io stessa ho riconosciuto, perché io ho già fatto questi esercizi, ho riconosciuto di aver dedicato veramente tanto tempo lo scorso anno al lavoro, a scapito di riposo, dei miei obiettivi personali di fitness e di vita sociale e di tempo libero. Cioè, essenzialmente ho lavorato molto l'anno scorso. Quello è una cosa che sono riuscita un po' a capire e a valutare facendo questo esercizio. Quindi, questo è un primo passo utile a fermarsi, fare un passo indietro, guardare da lontano e dire Ah, è vero! Perché a volte, se non ce lo mettiamo davanti agli occhi, non lo notiamo. Quindi io vi lascio qua, con questo vostro primo esercizio. Fatemi sapere come si chiama il vostro embre e magari se avete voglia di condividere l'area dove c'è la maggior discrepanza. Quindi magari dove avete dato tempo libero, valore, personale, 10 e avete dedicato... 1 Come ho fatto io l'anno scorso. Molto bene. Noi ci vediamo nel prossimo episodio di Silviembre. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento per non perdervi tutti i prossimi episodi di questa stagione 2023. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!